Buongiorno a tutti, bentornati e bentrovati nel nostro Caffè Nio. È con piacere che oggi ospitiamo nel nostro canale Beatrice Arrak, una giovane studiosa di antropologia culturale e di storia delle religioni. Benvenuta Beatrice. Buonasera, grazie, grazie mille per l'invito. Insieme a Beatrice Arrak oggi parliamo di una divinità molto importante e molto complessa del pantheon romano, Diana, della quale Beatrice si è occupata con particolare riferimento a un fondamentale luogo di culto della Diana Latina, il Tempio di Nemi dell'antica Aricia, che era il Tempio, diciamo così, che fu anche il centro della confederazione romano-latina, a partire dal quale poi il culto di questa antica divinità italica fu trasferito nell'Urbe, sul colle Aventino, a quanto garantiscono le fonti ai tempi di Servio Tullio. Con tutta probabilità il culto di Diana approdò a Roma nel 504, in seguito appunto al conflitto che vide contrapporsi Roma e le città latine sue alleate con il lucumone di Chiusi, Porsenna, una guerra che si concluse vittoriosamente per Roma, ma come sappiamo nel suo atteggiamento di estrema disponibilità al limite quasi dell'eclettismo religioso, Roma accolse all'interno del suo pantheon questa augusta divinità latina. Una divinità, come dicevo, la cui teologia appare, a partire proprio dalle fonti e dalle testimonianze, piuttosto complessa. Già l'etimologia, diciamo così, del suo nome rivela quel suo statuto di divinità celeste. Diou è la radice indoeuropea, da cui peraltro vengono i nomi di altre divinità romane, come lo stesso Jupiter, Dius Fidius, Dea Dia, e rimanda appunto alla dimensione celeste. Una divinità celeste è regale, come rivela il culto tipicamente italico di questa divinità, legato a una figura molto interessante, quella del Rex Nemorensis, una figura molto interessante non solo per i suoi valori e i suoi significati intrinseci, ma anche direi per la sua capacità di sopravvivere alle epoche storiche, perché troviamo traccia dell'esistenza del Rex Nemorensis anche in età imperiale. Ma Diana è anche divinità actonia, è anche divinità preposta alla tutela delle gravidanze e delle nascite, e a quanto garantiscono Festo e Plutarco nelle questioni estromane, anche una divinità il cui culto era diffusissimo nel mondo servile, quindi tra i servi. Questo tra l'altro è un elemento che poi noi ritroviamo nel culto di questa divinità come si stabilì e come si definì anche a Roma. Dicevamo che Diana fu accolta a Roma attraverso la costruzione da parte di Servio Tullio di un tempio sul colle Aventino, il colle Plebeo per eccellenza, dove nel 497, lo si ricorderà, fu edificato anche il tempio dedicato alla triade Plebea o Aventino, così detto. Ebbene, allora, Beatrice, anzitutto ti chiedo, possiamo definire meglio la fisionomia di questa divinità, a partire dalle fonti che ci consentono di ricostruire, ecco, diciamo, l'aspetto originario e originariamente latino di questa divinità, per poi definirne i caratteri anche nel momento in cui fu acquisita nel Pantheon romano. Assolutamente. Diciamo che già le tracce archeologiche, i resti archeologici, rimandano chiaramente un culto nel Bosco Sacro di Nemi, nel Lucus, in questa radura appunto in prossimità del Lago di Nemi. Si sono ritrovati nell'attuale terrazza mediana appunto del santuario come è stato poi chiaramente edificato successivamente anche in epoca imperiale, ancora era oggetto di allargamenti e rifacimenti. È stata ritrovata una sezione dell'Età del Bronzo, quindi chiaramente con anche depositi di asce e soprattutto la cosa interessante per quanto riguarda proprio la parte cultuale era un, diciamo, un incavo preposto probabilmente ad accogliere l'albero sacro della dea, che era quello sul quale poi cresceva sostanzialmente il famoso ramo d'oro, il ramo che rimanda a molti, diciamo, almeno a due episodi. In parte il primo è sempre anche questo legato al mondo infero, come dicevi tu, a questa triplice natura diana, molto particolare, chiaramente primigenia sostanzialmente come divinità femminile che abbraccia tutte le dimensioni dell'essere. Quindi chiaramente Nea, su invito della Sibilla Cumana, dovette cogliere un ramo d'oro appunto per poter scendere agli inferi e così analogamente anche Rex Nemorense, diciamo il sacerdote e paretro della dea, sostanzialmente lo sposo rituale della dea, per poter sfidare, diciamo, colui che in quel momento era in carica come Rex e poterlo sfidare e tentare di ucciderlo, doveva però prima comunque cogliere questo ramo che alcuni studiosi hanno ipotizzato essere vischio e dunque l'albero sagro della dea poteva essere verosimilmente la quercia, che è l'albero che ospita più spesso appunto il vischio. Quindi da questo punto di vista, come dicevi tu, c'è chiaramente una connotazione regale anche nel fatto stesso appunto che lo sposo della dea è chiamato Rex. D'altro canto però, già qui, ritorna quel gioco sulla duplicità dell'aspetto regale ma anche servile del culto di Danone Morense, perché spesso il Rex era uno schiavo liberato o un fuggiasco, un fuggiasco che era appunto stato bandito da altre città vicine, che però poteva chiaramente riscattarsi quasi in una hierogamia appunto con la dea. E a me fa sorridere un po' il fatto che effettivamente la mitologia romana si gioca spesso su questa equivocità circa una nobiltà intrinseca anche se l'ordinamento sociale magari in quel momento non la riconosce come di fatto succede poi anche a Romolo e Remo e come sarà la fondazione di Roma stessa. Però non è un qualcosa di disordinato, cioè siamo quattro scapestrati, mettiamoci insieme e facciamo quello che ci pare, ma è in realtà un esaltare come una norma ordinatrice, quindi un principio divino che in questo caso chiaramente è Diana, possa redimere, possa purificare e sostanzialmente tramutare un serbo in re tramite una devozione, tramite un atteggiamento pio. Questo è molto interessante perché appunto non esalta la parte grassa, perché sappiamo che presso Roma chiaramente era centrale il ruolo della nobiltà, della regalità e della prima funzione, direbbe di un esil, però al contrario esalta proprio come i principi divini che erano anche quelli che poi governavano chiaramente le città e da qui deriva anche l'essenziale necessità di dover rabbonire verso se stessi quel principio che guidava le città sostanzialmente vinte e soggiocate da Roma e quindi per me è molto interessante. Diciamo che la questione del Tempio sull'Aventino è una questione un po' spinosa perché effettivamente non è facile da inquadrare. Prima di tutto non è facile inquadrare il ruolo politico che ebbe, perlomeno per le fonti che abbiamo oggi, e in realtà anche dal punto di vista spirituale non è così semplice capire se avesse mantenuto l'aspetto originario della Diana prelatina con chiaramente poi tutti anche gli influssi ellenistici che giunsero poi. Diana era sicuramente venerata già dai popoli preromani e però ci furono chiaramente degli influssi ellenistici successivamente, quindi non si sa se è esattamente lo stesso principio oppure se era in una sorta di rivalità con il Tempio di Diamana, con il conto di Diana Nemorense. Perché? Perché effettivamente sappiamo che il Tempio di Nemi continuò, come accennavi prima, ad avere ampia frequentazione sia durante i Nemorali appunto ad agosto sia anche da parte degli imperatori. Insomma sappiamo che Caligola fece edificare una villa faraonica lì a Nemi con le famose navi che poi sono purtroppo affondate appunto ed ora sono in parte conservate al muto delle navi. Le fonti su questo sono un po' lacunose, io ho la mia teoria personale però è assolutamente indimostrabile, però invito anzi tutti quanti a ragionare su questo tema perché senza dubbio merita un approfondimento e ci invita anche a un'altra riflessione, al fatto che a Roma in realtà una parente di Diana, se vogliamo dirlo, esisteva ed era Diana. C'è una grande correlazione tra Diana e Giano, tra la divinità ancipite delle soglie fisiche e la divinità che, come dicevi tu, presiede alle soglie un po' più sottili, come sostanzialmente poi il mondo femminile è, ossia le soglie tra vita e morte, tra fertilità e invece appunto carestia. Quindi c'è un'ispirazione che poi anche qui è sempre connessa alla presenza di quercia, presenza di alberi sacri che potrebbe in realtà guidarci anche verso sicuramente delle popolazioni preromane che abitavano già i colli intorno a Roma. forse c'era già una conoscenza di questa divinità. Ci sono davvero tanti elementi molto molto interessanti nel tuo discorso. Per esempio ora il riferimento alla quercia come albero sacro legato in qualche modo alla fertilità e alla maternità, anche alla fertilità femminile. Ricordo uno studio molto interessante di Yves Vade sull'espressione omerica che raccorda la pietra la grande pietra e la quercia. Quando Omero ha più riprese dice non siamo mica figli della quercia o della pietra. Allora in realtà dietro questa espressione che ai tempi in cui i poemi omerici furono redatti doveva suonare quasi come un'espressione proverbiale, c'era un'antichissima persuasione che collegava appunto sia da un lato la quercia dall'altro la pietra all'idea appunto della fertilità per ragioni che Yves Vade individua nella corrispondenza del grande albero o della grande pietra con delle vene di acqua sotterranee. Laddove l'acqua che scorre sotto la superficie è in qualche modo raccordabile a una sorta di sistema linfatico del pianeta. Insomma sarebbe l'equivalente planetario di quei liquidi chiari che scorrono anche nell'organismo umano e che Ricciardonians ha dimostrato su ampia e solida base documentale essere poi quello che in greco si chiama e in latino autori come Apulevio ma anche Terenzio o Plauto chiamano sucus, cioè la linfa vitale, il supporto materiale della vita. Quindi questa stessa visione era estesa dall'organismo dell'essere umano all'organismo diciamo così del pianeta, del pianeta Terra. Ma ecco, quello che tu ci raccontavi a proposito di questa molteplicità di funzioni per usare appunto la categorizzazione di Giumesilla a cui Diana alla fine dei conti assolve, ecco a me veniva in mente che questa è una caratteristica di molte divinità italiche. Per esempio io ho fatto uno studio su Mefitis, sulla divinità Mefitis del Panteon Irpino, che ha esattamente questa stessa caratterizzazione. Cioè è dea celeste e dea ctonia. Quindi si tratta di... Ho la stessa Giunone anche nel Panteon Romano. Giunone che è la dea triforme per eccellenza, prima ancora che la stessa Diana Artemide, secondo l'interpretazio greca. Cioè è come dea regale, quindi dea regina, dea guerriera e dea che presiede, diciamo così, soprattutto al parto e quindi alla prosperità della collettività umana. Ecco però, a proposito di questi collegamenti tra divinità diverse che si possono istituire, mi interessava anche una cosa che tu, in un tuo studio su Diana, hai messo molto bene in evidenza, secondo me. Cioè una certa sovrapponibilità tra Diana e Vesta, a partire dal fuoco, dalla centralità del fuoco sacro. Assolutamente. Questa è un'ipotesi, si tratta di un'ipotesi, però sappiamo che nel culto di Diana il fuoco era un elemento preminente, tanto che in alcune monete appunto viene raffigurata anche la dea stessa come portatrice di una torcia, quindi con una fiacola accesa in mano. E sappiamo appunto anche che durante Nemoralia tutto il bosco di Nemi brillava, si poteva vedere da lontano, perché tutti i fedeli o che volevano semplicemente festeggiare la dea o perché dovevano chiedere una grazia appunto, come dicevamo, di solito di natura è legata alla fertilità, quindi ottenere o un buon parto, o un parto facile, o comunque ottenere una gravidanza, oppure persone che andavano a donare un ex voto per una grazia ricevuta, come si usa ancora oggi, quindi portavano una torcia. E quindi sì, esiste questo parallelismo appunto già a partire dall'elemento fondamentale del fuoco e anche qui sostanzialmente si rivela nuovamente la duplice natura della dea, perché mentre anche in Vesta è presente, sappiamo che l'acqua nel culto di Vesta comunque ha un ruolo importante, anche appunto a Roma, ma è ancora più fondamentale appunto nel culto di Diana la presenza dei due elementi, quello igno sostanzialmente e quello invece acqueo, perché nello stesso tempio successivamente fu ospitato anche poi appunto il tempio, nel santuario fu ospitato anche il tempio di Egeria, la ninfa che anche essa presideva la fertilità al facile parto, poi di fronte aveva, chiaramente si vede benissimo lì scendendo dal santuario si vede proprio lo speculum diane, lo specchio di Diana, nel lago, quindi chiaramente veramente suggestivo anche proprio da vedere, perché è un lago vulcanico, quindi infossato con questa nebbia permanente che rende tutto un po' sfumato, questa atmosfera che lascia veramente stupefatti, e dall'altra parte però la presenza igna. Quindi ancora una volta io vedo Diana come una dea che è la sintesi degli estremi nel senso in cui è probabilmente una dea originaria. Prima, diciamo, della grande differenziazione che si fece poi dividendo le divinità in tanti personaggi, Diana rappresenta il femminile, quindi rappresenta il fuoco domato, chiaramente, perché altrimenti deve essere un fuoco ordinato, noi sappiamo che il fuoco è un elemento sicuramente positivo in tutte le tradizioni, da quella indiana fino alla nostra appunto, ma deve essere un fuoco controllato, deve essere un fuoco che viene alimentato e ritualizzato, non è la fiamma che brucia, e un po' è quello che ritornando anche a livello cosmico è il rapporto tra la divinità del titano solare e il ruolo regolatore di Apollo, quindi c'è sempre necessità di una mediazione e di una ritualità che renda un elemento che altrimenti è distruzione, chiaramente, un elemento invece fertile, ancora una volta, perché anche in questo caso è legato chiaramente al, anche proprio al benessere della comunità intera del fuoco fa riferimento che sia la comunità familiare o la comunità su larga scala e quindi sia un elemento assolutamente propositivo. Hai accennato a questo collegamento insomma molto interessante e anche piuttosto chiaro dal punto di vista funzionale tra Diana e Egeria, però c'è anche un'altra divinità maschile che veniva ospitata fin dall'interno del Nemus che è Virbio. Vuoi dirci qualcosa anche di questa figura? Allora, Virbio era diciamo il compagno casto potremmo definirlo così e poi divinità fonte di culto di Diana stessa. Abbastanza c'è parallelismo anche tra il mito di Diana e di Polito che tra l'altro ci sottolinea un altro fatto che è cruciale ritornando poi al Rex Nemorense che abbiamo citato all'inizio ossia la morte cruenta del giovane quasi che fosse una sorta di condizio sine qua non per poter diciamo per poter essere vicino alla dea e appunto anche in questo caso ritorna il tema che poi diventerà probabilmente forse anche in memoria della morte cruenta di Virbio il sacrificio rituale del dello sposo ierogamico del appunto il Rex Nemorense che è anche appunto come dicevo affine al all'Ippolito di Artemide e quindi chiaramente anche lui era fonte di devozione e culto presso le popolazioni tanto che infatti era ricordato anche nel santuario di Aricia che era chiaramente pro nell'attuale Nemi sì un aspetto su cui stavo stavo riflettendo è questo carattere che a me sembra di poter estendere a diversi pantheon italici per cui la situazione almeno originariamente doveva essere di una estrema limitatezza dei membri ecco che costituivano poi concretamente questo pantheon tu prima parlavi di Diana come di una divinità originaria quell'aspetto di plurifunzionalità che abbiamo già messo in evidenza probabilmente doveva caratterizzare quasi come un aspetto distintivo molti di questi pantheon tipicamente italici che erano costituiti probabilmente in alcuni casi anche solo da due divinità una maschile e una femminile come per l'appunto nel caso del pantheon irpino ecco però a più riprese abbiamo parlato appunto del tempio di Diana Nemorense che si trova attualmente a Nemi nell'antica Aricia è un edificio di cui tutti si è occupata da diversi punti di vista anche non solo dal punto di vista dello studio ma anche della conservazione di questo di questo monumento vuol dirci qualcosa anche a questo proposito assolutamente diciamo che ero estremamente giovane avevo 16 anni quando visitai effettivamente il tempio il santuario di Diana Nemi e mi resi conto che insomma l'avevo letto sapevo delle cose e mi immaginavo che fosse conservato benissimo e che diciamo fosse anche estremamente noto a tutti e poi quando lo scopri insomma in mezzo al bosco lo ritrovai in parte depredato e non so anche malmesso con alcune parti anche del sito insomma a rischio di essere danneggiate perché una tettoia che copriva era stata appunto era molto rovinata quindi diciamo che vedi che versava purtroppo in condizioni non ottime devo dire che da questo punto di vista è stato comunque fatto molto per quanto in realtà i fondi non siano moltissimi sappiamo che ci sono state importantissime campagne di scavo dagli anni ottanta ma soprattutto poi dai primi duemila fino ancora al duemiladiciannove che hanno permesso di ricostruire una pianta di questo del santuario che constatava appunto di tre terrazze anche di nucchioni votivi che sono ancora visibili che ha riportato appunto alla luce anche come dicevo la parte la presenza ancora del culto già nel culto in età nell'età del bronzo ma parte di questi scavi che sono stati scavi di studio sono poi chiaramente non sono fruibili a seguito appunto degli studi sono stati rienterrati perché non vi sono fondi per poter rendere il sito effettivamente fruibile dal pubblico perché effettivamente è un'opera probabilmente diciamo mastodontica richiederebbe grandi fondi e il rischio è che magari essendo vicino a una città che attrae molto ma che ha molto da offrire quindi magari i visitatori potrebbero essere attirati più verso Roma che non verso Nemi il rischio sarebbe poi forse si ipotizza di una scarsa fruizione del sito è vero anche che poi c'è un'altra questione il Tempio sorge sul lago di Nemi che era una tappa del Grand Tour quindi in realtà Nemi non è solamente un luogo di origine mitica non è solamente un luogo importantissimo anche per la storia di Roma stessa perché come abbiamo parlato era anche un luogo della federazione era un luogo di culto importantissimo perché noi sappiamo appunto dagli scavi che i lavori sul Tempio sono continuati anche durante l'età imperiale come dicevi tu e addirittura sappiamo che il sacrificio del Rex Nemorense continuò addirittura fino a Caligola che si racconta chissà se era vero chissà se non era vero che lui stesso disse basta c'è da troppo tempo il re a Nemi è ora che qualcuno vada ad ucciderlo perché nessuno lo sfida da troppo tempo quindi sappiamo che insomma a Roma i sacrifici umani li aveva aboliti dall'alba dei suoi tempi praticamente però ancora riusciva a resistere questo sacrificio cruento nel bosco di Nemi quindi questo sicuramente anche molto particolare e in più ancora oggi grazie all'eco di queste voci che venivano dal passato ancora nell'ottocento il lago di Nemi e il santuario di Diana erano fonte di visita per diciamo le persone per le grandi menti europee che facevano il Grand Tour tant'è che abbiamo appunto il meraviglioso quadro del ramo d'oro che veramente esprime e manifesta quell'atmosfera di cui abbiamo parlato che è sostanzialmente ma assolutamente ispiratrice e purtroppo ad oggi esistono pubblicazioni sicuramente che sono già una testimonianza importante i reperti sono numerosissimi i reperti provenienti appunto dal dal santuario ed uscirà a breve anche uno studio su questi mentre lo studio appunto sulla parte archeologica delle strutture è già pubblicato però è vero anche che purtroppo ad oggi è sostanzialmente inaccessibile primo perché è recintato non è aperto al pubblico e secondo anche perché spesso è poco conosciuto anche dal punto di vista culturale cioè non si capisce l'importanza del perché si dovrebbe andare fino a Nemi a visitare qualcosa del genere quindi io feci appunto all'epoca un'opera di sensibilizzazione ho fatto una petizione pensando che bastasse pensando che servisse a qualcosa e devo dire ha portato alla creazione all'epoca di di un team di persone splendide dei grandi professionisti del CNR architetti e archeologi che hanno veramente messo su un progetto di salvaguardia e riqualifica molto interessante che meriterebbe veramente di essere applicato e però sostanzialmente mancavano i fondi però come ti dicevo prima anche quando parlavamo tra di noi io penso sempre alla storia di Diana al bagno è una dea che non sempre vuole essere vista ed è un principio che a volte appunto ama rimanere celato d'altronde sappiamo che boschi erano temuti a volte ad esempio i cimini oppure pensiamo alle grandi foreste germaniche erano temuti dai romani perché ritenevano che fossero appunto sede e dimora di divinità ma poiché inaccessibili si pensava fossero divinità che magari non volevano essere troppo disturbate allora quello che ho pensato io un giorno perdendomi sempre nel bosco di Nemi ho detto chissà magari io pensavo di far cosa buona cercare di portare fondi e portare turismo qui e magari invece non era non era giusto non era non era quello che andava fatto quindi niente alla fine è andata così e ho deciso di impegnarmi in altro senso appunto anche oggi sono qui ti ringrazio moltissimo per l'occasione per questa stupenda chiacchierata e quindi speriamo che magari che qualcuno si interessi un po' di più e capisca quanto è importante anche uno sguardo ampio ma ordinato come Diana effettivamente ci insegna e insomma possiamo dire anche per Diana ciò che si si dice della natura che la natura ama nascondersi e chissà e chissà che non sia proprio così certamente al di là di tutte le valutazioni economiche di sfruttabilità da un punto di vista turistico che si possono fare su questo monumento sarebbe davvero opportuno garantirne la preservazione riflettendo magari poi sulla effettiva accessibilità di questo luogo sono io che ti ringrazio Beatrice per la tua disponibilità è stato davvero un piacere confrontarmi con te e ascoltare insomma tutte le tue riflessioni a tutti voi do appuntamento per un prossimo episodio del nostro podcast